Aiutiamoci a casa nostra e per casa la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen non intende quella dei singoli Stati membri. L'appello a condividere le attrezzature mediche arriva infatti nel bel mezzo della bufera per il blocco dell'export di mascherine anticontagio deciso da Francia e Germania. Oggi è l'Italia che ha rapidamente bisogno di grandi quantità di prodotti medicali, ma tra qualche settimana ne avranno bisogno anche altri paesi. Producendo di più, mantenendolo nell'Unione Europea e condividendolo tra di noi possiamo proteggere i nostri operatori sanitari, i pazienti e contenere la diffusione del virus. Continuare a far funzionare il mercato unico e sottoporre invece a un regime di autorizzazione le esportazioni verso i paesi terzi e quanto chiede von der Leyen. La Commissione Europea lancerà anche un sistema di acquisti pubblici congiunti con gli stati membri per testare kit e respiratori.